Abbiamo provato in Consiglio Comunale due delibere rilevanti. Con la prima mettiamo in liquidazione nel service, quindi concludiamo quel processo di rivisitazione del sistema delle partecipate del Comune di Napoli, assumendo quest'ultima decisione. Con la seconda delibera invece esprimiamo un indirizzo al commissario di ABC affinché valuti l'assunzione diretta dei 90 lavoratori attualmente a carico di net service. La ragione è molto semplice, stiamo parlando di professionalità che conoscono a memoria tutta la rete idrica di ABC, professionali delle quali ABC ha assolutamente bisogno, quindi l'indirizzo che dà il Consiglio Comunale è da questo visto un indirizzo positivo, il commissario ovviamente assumerà le adeguate decisioni.